Buongiorno, Siamo bentrovati all'appuntamento con Mattino 6 del 6 ottobre, martedì 6 ottobre 2015, la nostra consueta rassegna stampa con la lettura dei giornali. Partiremo dal centro, poi passeremo al Messaggero e alla città di Teramo, nell'ultima parte, poi spazio ovviamente alla pagina sportiva. Apriamo con il Santo del Giorno, che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica San Bruno, viene ricordato proprio il 6 ottobre, San Brunone nacque da nobile famiglia verso l'anno 1035, nella città di Colonia frequentò la scuola presso la chiesa di San Cuniberto, facendo rapidi progressi nella scienza e nella pietà, tanto che Sant'Annone, vescovo della città, lo elesse canonico della sua chiesa. Terminò poi gli studi a Reims, dovebbe fama di ottimo poeta, eccellente filosofo e teologo, per cui i suoi contemporanei lo riguardavano come uno dei più illustri allievi della scuola di Reims. E qui rimase molto tempo come insegnante. Verso il 1067 morì l'arcivescovo di Reims, di cui egli era il più valido sostegno, ma gli successe a furia di subdoli maneggi, menasse primo, il quale tenne un governo non buono, tanto che la Santa Sede fu costretta a dimetterlo dalla cattedra episcopale. San Brunone, suo cancelliere, non poteva soffrire gli abusi di cui era testimone e fu costretto ad essere uno dei principali accusatori. L'umile religioso ebbe tante prove difficili nella sua vita e ci lasciò, oltre alle lettere, i commenti sopra il salterio, sopra le pistole di San Paolo ed una elegia in 14 versi sul disprezzo del mondo. Nelle settembre del 1101 se ne volò al cielo per ricevere la ricompensa delle sue virtù e delle sue fatiche. San Bruno, sacerdote e monaco della Chiesa italiana che viene ricordato il 6 ottobre. Allora possiamo aprire la nostra rassegna stampa con le prime pagine delle edizioni del centro. Partiamo dall'edizione di Pescara che apre a tutta pagina sul processo dei rifiuti. I PM hanno formulato ieri le loro richieste 5 anni a Venturoni e Dizio, processo rifiuti. La chiusa chiede anche 18 mesi per il deputato Di Stefano. Vedete questo titolo a tutta pagina del centro. Poi in alto una notizia che riguarda quanto accaduto nei giorni scorsi in Francia nella zona delle Alpi Marittime dove alcuni treni sono rimasti bloccati per il maltempo. Fra questi anche un treno bianco dell'Unitalsi di ritorno da Lourdes. Tanti gli abruzzesi su questo treno sono rimasti bloccati per molte ore proprio in Francia. Questo treno ieri è rientrato in Abruzzo e è passato in Abruzzo. Tanti gli abruzzesi che sono scesi nelle stazioni di Giulianova e Pescara in particolare. Poi vediamo nelle cronache si parla del comune di Pescara Conti in rosso, rischio stangata per gli ex politici di Pescara. E poi dopo l'outing di un prete Donna Madio, sacerdote molto conosciuto a Pescara, nonché Vicario Vescovile dice la Chiesa rispetta gli omosessuali. Poi il calcio, la Serie B il Pescara atteso domenica dal derby con l'Ascoli guarda anche alle manovre di mercato perché i biancazzurri vogliono di massimo attaccante dell'Avezzano mentre Vukusic e ai saluti potrebbe esserci la rescissione. Poi la cronaca Viadori ha preso l'aggressore e voleva uccidere un senza tetto ora è allarme sicurezza. Lasciamo allora l'edizione del centro di Pescara la prima pagina tra poco andremo a vedere la prima pagina invece dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto del quotidiano d'Abruzzo anche in questo caso per vedere i titoli principali come per l'edizione di Pescara anche per l'edizione di Chieti l'apertura per il processo rifiutopoli condannate di Stefani Dizio il PM chiede 18 mesi per il deputato e 5 anni per l'imprenditore e poi le cronache in Chieti l'omicida si nascondeva lo scalo blitz della polizia con un arresto poi Lanciano piano industriale la Bimo si rilancia investimenti per 15 milioni e poi sanità nel Frentano ecco il piano della regione sugli ospedali e poi la cronaca che arriva da Vasto accoltellata durante la lite donna presa a pugni e ferita una gamba dal compagno lasciamo la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro andiamo a vedere i titoli dell'edizione di Teramo del quotidiano il centro anche nell'edizione teramana il titolo principale sul processo rifiutolo poi vediamo invece poi nelle cronache a Teramo botte alla moglie è arrestato un teramano si tratta di un pensionato poi a Pineto Parcomarino Dorazio ricorre al Tar pochi giorni fa c'erano state le nuove nomine e poi polo scolastico vicino ad Alessandro c'è un progetto che riguarda proprio le scuole teramane e poi tagliati i mezzi di soccorso la regione vuole togliere a Teramo ambulanza e automedica chiudiamo con la prima pagina del centro edizione di l'Aquila Vezzano Sulmona e poi passeremo al messaggero daremo uno sguardo ai titoli di carattere nazionale c'è purtroppo ennesimo incidente mortale nella nostra regione accaduto ieri sera professoressa muore nello schianto della sua auto Sulmona l'insegnante travolta da una macchina con tre romeni vedete nella foto quel che resta dell'auto della donna poi Avezzano Sosta Selvaggia ha bloccato un'ambulanza all'Aquila del Principe sospesa per un anno e a Roccaraso in Veste Cervi automobilista resta ferito e poi all'Aquila donate le corne di Laura i familiari grazie a lei qualcuno tornerà a vedere lasciamo allora il centro le prime pagine delle quattro edizioni passiamo al messaggero apriamo con la prima pagina per vedere i titoli nazionali del quotidiano di Roma in pensione prima con il prestito flessibilità dell'azienda flessibilità dall'azienda un importo di 800 euro al dipendente fino alla maturazione dei requisiti l'anticipo poi restituito con una trattenuta mensile Padoan il ministro dell'economia e delle finanze dice sussidio europeo per i disoccupati e poi il mercato dei libri fusione Mondadori RCS Borsa ok ora non c'è più l'effetto Caimano si è parlato tanto di questa fusione tanto se ne parlerà nei prossimi giorni riforma del senato sì anche all'articolo 6 e poi per i gesti sessisti 5 giorni di stop i verdignani pronti a lasciare l'aula e poi in Francia polemica e rivolta in Air France i manager in FUCA tagliati 2.900 posti e poi RAI e caos stipendi via il tetto e dirigenti solo per chi merita questi alcuni dei titoli che riguardano argomenti che ritroveremo nelle pagine interne passiamo a pagina 2 dunque andiamo a vedere di cosa si parla nelle pagine interne del messaggero per le pensioni arriva alla flessibilità su misura pagata dalle imprese allo studio il meccanismo del prestito assegno anticipato a carico del datore di lavoro restituito poi a rate dal pensionato e poi lì stat'ottimista l'economia italiana si sta rafforzando bene il Job Act Padoan un sussidio europeo per aiutare tutti i disoccupati la proposta del ministro all'Ecofin risorse in comune contro la crisi il meccanismo potrebbe partire subito perché non bisogna cambiare il trattato poi il fisco entrate tributarie in crescita di 5,9 miliardi dunque aumentano le entrate per il per lo Stato italiano poi pagina 4 Mondadori RCS la Borsa Brinda ma Franceschini ministro della cultura dice il mercato rischia titoli a Piazza Affari Marina Berlusconi investimento sul futuro del paese il ministro precisa il governo non può ne deve intervenire Adelfi si tira fuori e scommette su di sé Calasso il pericolo c'è ma ci si può divertire dunque ci sono pro e contro per questa nuova fusione che fa del gruppo Mondadori RCS uno dei gruppi editoriali più importanti del vecchio continente e segrate pronta la nuova sfida in attesa del verdetto antitrust il gruppo ora una quota di mercato tre volte superiore al secondo competitor il garante potrebbe imporre dei paletti per l'advisor sarà via libera condizionato proseguiamo ancora si parla in questo caso di Rai caos stipendi via i tetti e i dirigenti ma non per tutti e poi canone tv nella bolletta da Movimento 5 Stelle a Salvini coro di no questa era stata una proposta che era stata avanzata dal Presidente del Consiglio poi siamo alla politica Senato per i gesti sessisti solo 5 giorni di sospensione la sanzione dell'ufficio di Presidenza per i due deputati e in questo caso i due senatori Barani e Danna un giorno per Airola del Movimento 5 Stelle proteste trasversali troppo poco il governo supera intanto indenne un altro voto segreto all'articolo 6 Ira di Verdini pronti a uscire dall'aula e Berlusconi vede Salvini ma non c'è intesa in basso si parla del PD Bersani all'attacco dice l'ex segretario PD senza bussola serve un chiarimento proseguiamo e siamo alla vicenda dell'Ari France aggredito il capo del personale per il taglio di 2.900 posti assalto dopo la conferma degli esuberi vedete nella foto quello che è accaduto a Parigi con questa fuga del responsabile delle risorse umane che è stato strattonato ha avuto anche la camicia strappata ed è stato salvato è il caso di dire dalla polizia un buco da 4 miliardi e mezzo e tanto personale il ministro così rischiamo di chiudere parla il ministro Manuel Valls proprio di Air France costretta come si legge da questi titoli a mandare a casa quasi 3.000 dipendenti proprio per il buco da 4 miliardi e mezzo e siamo alla politica estera raid in Siria caccia russi nei cieli turchi la Nato chiede al cremmilino di fermare subito gli attacchi su civili e sugli oppositori di Assad e accusa violato lo spazio aereo di Ankara convocato l'ambasciatore di Mosca le scuse per un errore di navigazione Erdogan rilancia una no-fly zone umanitaria e poi c'è l'intervista a Gregorio III il patriarca cattolico dice è positiva l'azione di Mosca in questa guerra e poi si parla del sinodo sinodo scontro tra i vescovi il Papa dice non è un Parlamento sulle aperture ai divorziati il cardinale Erdo frena insorge il fronte del dissenso Francesco avverte non si fanno negoziati proseguiamo pagati 11 milioni per la liberazione di Greta e Vanessa le ragazze rapite in Siria la corte islamica ha versato il riscatto la farnesina smentisce tutto falso ma scoppia la polemica ricorderete la liberazione di queste due ragazze si parlò di un presunto riscatto pagato proprio dal governo italiano c'è sempre stata la smentita del ministero degli esteri ma ora questa questa notizia che arriva dalla Siria riaccende le polemiche e in questo caso a proposito di polemiche le opposizioni dicono il ministro aveva negato ogni pagamento la replica non risulta nulla e poi Israele scontri e nuovi morti rischiamo un'altra guerra in una settimana uccisi tre arabi e quattro ebrei l'Isis recluta palestinesi allarmati Abu Mazen e Netanyahu dunque situazione calda in Medio Oriente siamo alle cronache italiane amianto a giudizio De Benedetti altri 16 lo stato maggiore della Olivetti a processo per la morte di 14 ex dipendenti coinvolti anche Passera e Colaninno la replica della difesa tesi accusatoria inconsistente escono di scena 11 indagati i sindacati dicono passo importante e poi si torna a parlare di Crocetta presidente della regione Sicilia e del caso espresso giornalisti subito alla sbarra chiesto il giudizio immediato dei due cronisti per calunnia e divulgazione di notizia falsa ricorderete questa vicenda con le rivelazioni dell'espresso su una telefonata tra Crocetta e il suo medico in cui si parlava in termini non positivi dell'assessore dell'ex assessore regionale alla sanità e dunque Crocetta fece ricorso si rivolse alla procura e ora è stato chiesto il giudizio immediato dei due cronisti proprio del settimanale dell'espresso che furono gli articolisti di questo articolo appunto sull'espresso Costa Azzurra le vittime salgono a 21 c'è anche un italiano parliamo del maltempo che c'è stato nei giorni scorsi ne abbiamo parlato prima in riferimento al treno bianco dell'Unitalsi Giovanni Sabatino ristoratore viveva da tempo in Francia affogato nel garage mentre cercava di salvare l'auto 21 vittime in queste giornate di maltempo in Francia e siamo alle pagine dell'economia si parla degli aeroporti di Roma a Cina e Abu Dhabi il 30% grandi manovre dunque per quanto riguarda gli aeroporti di Roma e poi piazza affari al Galotto guida Saipem borse in forte rialzo sui dati americani balzo del 10% della controllata Eni prima di andare alle pagine regionali del messaggero e anche degli altri quotidiani torniamo al centro per vedere in questo caso le pagine di cronaca nazionale che ci sono proprio nel quotidiano d'abruzzo pagina 2 le mosse del governo canone tv in bolletta codacons dice illegale per il presidente di asso elettrica è un'operazione impossibile fitto chiede l'abolizione da zanetti di scelta cifica vuole una riduzione a 85 euro paga chi ha il televisore ma ci sono in tanti ci sono tanti che non pagano il canone rai pagina 3 barani e danna sospesi per gli atti osceni in senato 5 giorni ciascuno e uno al grellino airola il movimento 5 stelle non ci sta e attacca grasso intanto il governo supera un altro voto segreto nel pd polemica bersani guerini e poi c'è per quanto riguarda il comune di Roma un esposto del movimento 5 stelle sulle spese di marino ma il sindaco minaccia querele poi occupazione sussidio europeo per i disoccupati la proposta del ministro padoan i nodi della chiesa la famiglia parliamo del sinodo il papa dice papa francesco il sinodo non è un parlamento ai vescovi il pontefice il nostro compito dice parlare con coraggio ed umiltà forte non siamo due partiti forte il cardinale di chieti che partecipa a questo sinodo e poi il caso ricorderete il caramsa questo sacerdote che aveva fatto coming out proprio nei giorni scorsi lascia Roma lascia il suo incarico un incarico importante del teologo polacco che dice auguro a tutti di affrontare questa sfida una rivelazione arrivata proprio a poche ore dall'inizio del sinodo che aveva creato ovviamente polemiche ancora avanti cronaca internazionale accossi corpi di due bimbi Unione Europea intesa con la Turchia strage infinita di migranti cadavere dei piccoli ritrovati su una spiaggia greca incontro Juncker Erdogan per fermare l'ondata in Germania atteso un milione e mezzo di immigrati poi Costa Azzurra maltempo un ristoratore italiano abbiamo visto anche dal messaggero tra i 21 morti e poi siamo alla guerra in Siria all'ISIS la NATO avverte la Russia stop ride contro i ribelli poi riscatto da 11 milioni per Greta e Vanessa la Farnesina smentisce ma è polemica e poi ancora cronaca giudiziaria in questo caso maxiprocesso per mafia capitale tra un mese la prima udienza Buzzi e Carminati in videoconferenza Aula Bunker di Rebibbia a Roma con 50 imputati e poi a Torino Olivetti vertici rinviati a giudizio 17 imputati per le morti da amianto di 14 ex dipendenti e poi siamo arrivati alla pagina d'Abruzzo del centro tra poco parleremo di meteo ma andiamo a vedere questa pagina questa notizia che riguarda il processo rifiutopoli 5 anni a Venturoni e di zio rifiutopoli le richieste dei PM per l'ex assessore e l'imprenditore un anno e sei mesi per il deputato Di Stefano andiamo a vedere nel servizio di Alfredo Primante proprio nel dettaglio le richieste dei PM proprio nel processo rifiutopoli c'era un patto tra l'imprenditore Rodolfo Dizio e l'ex assessore regionale alla sanità Lanfranco Venturoni per la concessione senza gara di appalti da centinaia di milioni di euro e questo uno dei passaggi fondamentali delle oltre due ore di requisitoria del PM Gennaro Varone nel corso del processo cosiddetto rifiutopoli al tribunale di Pescara la vicenda giudiziaria ruota attorno alla realizzazione a teramo di un impianto di bioessiccazione dei rifiuti e conta tra gli imputati proprio l'ex assessore regionale alla sanità Venturoni gli imprenditori Rodolfo e Ferdinando Dizio il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano l'ex amministratore delegato della società Team Teramo Ambiente Vittorio Cardarella e la società Deco del gruppo Dizio le accuse ipotizzate dalla procura sono a vario titolo corruzione istigazione alla corruzione abuso d'ufficio peculato turbativa d'asta e millantato credito sotto la lente d'accusa è finito in particolare un milione di euro di finanziamenti che Dizio avrebbe elargito ai partiti ed in particolare ad esponenti di Forza Italia e del centrodestra abruzzese tali finanziamenti ed altri favori secondo l'accusa costituirebbero la dimostrazione della dipendenza della politica dagli interessi dei Dizio secondo Varone sia Venturoni che Di Stefano si sarebbero adoperati per favorire la realizzazione dei due impianti al centro dell'inchiesta anche esercitando pressioni per modificare alcune leggi regionali al termine della requisitoria l'accusa ha chiesto condanni a cinque anni di reclusione per Lanfranco Venturoni e Rodolfo Di Zio un anno e sei mesi per il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano mentre è stata chiesta la soluzione per non aver commesso il fatto per l'imprenditore Ferdinando Ettore Di Zio la soluzione perché il fatto non costituisce reato per l'ex amministratore delegato della Team Vittorio Cardarella e una multa di 100.000 euro per la società deco del gruppo Di Zio Noi passiamo al meteo come ogni mattina alle 7.20 o giù di lì abbiamo in collegamento telefonico il nostro meteorologo Giovanni De Palma a cui vado innanzitutto ad augurare una buona giornata buongiorno Giovanni Buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori Allora Giovanni nelle ultime ore correggimi se sbaglio abbiamo assistito ad un aumento abbastanza consistente delle temperature ieri a Pescara c'erano quasi 25 gradi una temperatura più di fine agosto che dei primi di ottobre abbiamo letto anche dai giornali quello che è accaduto con il maltempo in Francia possiamo dire che per la nostra regione le cose stanno andando decisamente bene ma anche credo per l'Italia che tempo dobbiamo attenderci per le prossime ore e anche uno sguardo alle temperature resteranno queste temperature diciamo quasi da fine estate o se ci sarà una diminuzione Sì Paolo hai detto bene le temperature sono aumentate perché sono arrivate masse d'aria umida di origine atlantica ma provenienti dal Mediterraneo occidentale che hanno innescato comunque una risposta di venti dei quadranti meridionali che poi hanno favorito l'aumento delle temperature questa situazione è tipica e classica dell'autunno quando ci sono queste ondulazioni il passaggio di queste perturbazioni che continueranno a manifestarsi nelle prossime ore ma se da un lato le temperature in queste ultime ore sono aumentate nelle prossime ore ma ancor più da domani nei prossimi giorni torneranno a diminuire e si porteranno al di sotto delle medie stagionali perché arriveranno a delle perturbazioni atlantiche ancora diciamo piuttosto intense rispetto a quelle che abbiamo avuto nella giornata di ieri perché sono previste delle precipitazioni ma andiamo con ordine parliamo delle prossime ore caratterizzata dalla giornata da nuvolosità piuttosto compatta anche se al mattino con possibili piogge sparse un po' su tutto il territorio regionale ma in altra tarda mattinata sono previste temporanee schiarite saranno possibili delle schiarite a partire dal settore occidentale in estensione verso il settore orientale della nostra regione però attenzione Paolo perché arrivano altri sistemi nuvolosi una nuova perturbazione proveniente dalla Francia che non ha nulla a che vedere con quanto accaduto ovviamente nei giorni scorsi favorirà un nuovo aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio sera anche sulla nostra regione ci saranno delle precipitazioni localmente a carattere temporanese a partire dalla Marsica e dall'Aquilano in estensione verso il settore orientale della nostra regione quindi tempo in peggioramento tra il pomeriggio sera di oggi è la mattinata di domani quindi anche domani avremo questa fase di tempo instabile con dei rovesci localmente anche a carattere temporalesco un tipo di tempo che ritroveremo almeno fino alla mattinata di giovedì poi ci saranno delle schiarite Paolo ma attenzione perché gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile deciso peggioramento di stampo tipicamente autunnale previsto sulla nostra penisola a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che inizialmente punterà verso l'entroterra algerino e poi tenderà a risalire verso la nostra penisola favorendo la formazione e l'approfondimento di una circolazione depressionaria proprio sulle regioni centrali circolazione depressionaria che richiamerà aria fredda dai vicini Balcani quindi il contrasto tra queste masse d'aria potrà dar luogo a sistemi nuvolosi molto compatti a cui sarà associata una fase di maltempo probabilmente nel fine settimana pioverà tanto soprattutto sulla nostra regione in particolar modo sul settore centro-orientale della nostra regione quindi bisogna prestare attenzione a questo probabile peggioramento ma di questa situazione poi ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti Paolo arrivo il maltempo come abbiamo sentito dal nostro Giovanni De Palma si abbasseranno anche le temperature io ringrazio il nostro meteorologo appuntamento Giovanni Conte a domani sempre nel corso di mattino 6 alle 7.20 grazie buona giornata e buon lavoro sì grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 bene ringraziamo il nostro Giovanni De Palma vi ricordo il sito internet www.abruzzometeo.org dove potete sapere davvero tutto sulle previsioni del tempo che riguardano la nostra regione tutte le zone della nostra regione dalla costa alle zone interne vedete anche i live delle quattro province con le foto scattate proprio in questi minuti e poi anche la pagina Facebook per interagire attraverso questo social network con il nostro meteorologo e dunque fare domande perché no proprio sull'evoluzione meteo che ci sarà nelle prossime ore nella nostra regione allora noi prima di tornare a vedere insieme le pagine dei nostri quotidiani ci fermiamo per qualche istante seconda parte di mattino 6 siamo all'inserto Abruzzo del messaggero vediamo le due pagine che riguardano la nostra regione ecco la prima a casa stanchi Masereni rientrato a Pescara il treno Unitalsi con le 288 persone bloccate per 15 ore a Marsiglia dalla tempesta un'esperienza dura affrontata con il sorriso canzoni e una spaghettata per tenere su il morale e poi la fotonotizia che riguarda il processo rifiutopoli le richieste della procura i PM hanno chiesto 5 anni per Venturoni e Dizio e poi la cronaca l'incidente mortale tra volte uccisa la sua auto tagliata a metà impatto violentissimo tra Pettorano Sulgizio e Sulmona la vittima presiedeva l'associazione Lo Specchio andiamo a vedere anche la seconda pagina c'è un ritorno sulla vicenda del treno Unitalsi bloccato in Francia per il maltempo ci sono anche delle testimonianze e poi in basso si parla di politica sanità Paolucci in commissione evitiamo la bagarre e poi Movimento 5 Stelle su Costa dei Trabocchi e Trivelle lettera ad Alfonso ed esposto in procura noi ieri abbiamo seguito con le nostre telecamere con la nostra Elisa Leuzzo proprio questo incontro del Movimento 5 Stelle proprio per fare il punto della situazione sulla Costa dei Trabocchi e sulla questione Trivelle vediamo il servizio il procedimento di approvazione del progetto Ombrina Mare 2 è alle battute finali e dunque i parlamentari abruzzesi del Movimento 5 Stelle scendono nuovamente in campo per impedire che la conferenza di servizi decisoria convocata per il 14 ottobre adotti provvedimenti definitivi nulla deve essere lasciato in tentato commenta Sara Marcozzi che evidenzia molteplici anomalie e procedurali contestiamo innanzitutto l'utilità lo abbiamo detto tante volte il petrolio è di scarsa qualità ce n'è poco le royalties che ci pagano le società petrolifere sono irrisorie rispetto al danno ambientale che fanno e che farebbero in caso di incidente quello che noi in questo appuntamento settimanale ormai diciamo e contestiamo è il fatto che dai proclami del presidente D'Alfonso che ci avrebbe difeso dagli UFO dobbiamo passare ai fatti oggi presentiamo altre due iniziative dopo quelle che abbiamo presentato la settimana scorsa che sono di convocazione praticamente della commissione regionale per il patrimonio culturale per l'Abruzzo oltre che un esposto alla procura della repubblica per evidenziare quelle che potrebbero essere anomalie chiediamo appunto alla procura di investigare e di approfondire il 14 ottobre c'è la conferenza dei servizi in cui si potrebbe decidere come dire la definitività del progetto noi crediamo che in questa sede in questo momento ogni strada debba essere percorsa per difendere il nostro mare per difendere il territorio degli abruzzesi e per difendere i diritti dei cittadini abruzzesi nella lettera che abbiamo inviato al presidente D'Alfonso al consigliere Mazzocca abbiamo evidenziato il fatto che molti aspetti non sono stati presi in considerazione che l'area da proteggere dovrebbe essere come dire allargata e il fatto che non siano stati presi in considerazione poi i trabocchi che sono in realtà un patrimonio culturale e storico da preservare per il quale dovremmo attirare economia turistica e non petrolifera siamo le pagine di Pescara del centro doppia pagina dedicata alla vicenda dei pellegrini dell'unità al si bloccati per il maltempo in Francia vedete l'arrivo le immagini dell'arrivo ieri alla stazione di Pescara tante testimonianze lacrime liberatorie l'arrivo in stazione è finita siamo felici la presidente di Pescara Bucci dice quando c'è un imprevisto esce la nostra abilità così si vede la forza dell'unità al si andiamo avanti preso l'aggressore di via Doria bivaccava sulla strada parco è un 43enne senza fissa dimora la polizia lo ha rintracciato e arrestato per tentato omicidio ha colpito un algerino con le forbici sul lungo fiume sud allarme sicurezza tanti gli edifici abbandonati e nel weekend multati due locali in via Battisti per gli orari non rispettati nei giorni scorsi c'era stata la nuova ordinanza comunale proprio nella zona della nuova Movida e poi Stromei è colpa della politica l'ex direttore Saga rapinato un anno fa bloccati i piani di rilancio della zona e poi il bando della ASL è per Prato denuncia della FIALS chieste la revoca della gara e la rimozione del responsabile poi un'altra notizia di cronaca arrestato cinque giorni fa muore in carcere aveva 42 anni indaga la procura di Pescara e siamo alla politica politica sempre dal comune di Pescara i politici rischiano di restituire dieci mesi di stipendio il dossier degli 007 del ministero sui conti rosso dell'ente fa emergere altre responsabilità degli ex amministratori riferimento e al documento degli ispettori del MEF per il triennio 2011-2014 triennio di governo a Pescara della giunta Alboremascia e noi ieri siamo andati ad ascoltare proprio l'ex sindaco di Pescara Luigi Alboremascia i bilanci del comune di Pescara più precisamente quelli che vanno dal 2011 al 2013 sono inaffidabili accuse pesanti dal ministero nei confronti della gestione di centrodestra quindi nei confronti dell'ex sindaco Luigi Alboremascia che definisce la vicenda curiosa questa vicenda che è davvero curiosa perché questo super ispettore fantomatico del ministero che è arrivato a Pescara non so quando e comunque quando si redige una relazione la si redige anche in contraddittorio con chi è interessato è lo stesso ispettore di un ministero che ha controllato i nostri bilanci in tutti gli anni in cui noi abbiamo governato la città Pescara non appartiene alla Repubblica di Samos appartiene alla Repubblica Italiana e come tutti i comuni della Repubblica Italiana i bilanci di un comune vengono inviati ogni anno alla Corte dei Conti e soprattutto vengono sottoposti a verifica da parte del MEF noi abbiamo avuto ispettori del MEF fino al 2013 che hanno verificato i nostri bilanci facendo rilievi critici come tutti i bilanci dei comuni d'Italia soprattutto per quanto riguarda la vicenda dei residui attivi che però affonda le sue radici addirittura agli anni 90 come in tanti comuni italiani ora esplode questa vicenda che merita un approfondimento e soprattutto merita anche un contraddittorio perché sono dati che vanno verificati anche da parte di chi evidentemente è interessato o controinteressato noi siamo sereni perché quando si è persone per bene si amministra con onestà si possono anche commettere errori in buona fede e questo è tutto da dimostrare ma sempre in buona fede e comunque mai per nuocere i propri cittadini e comunque mai soprattutto per violare i principi di trasparenza a cui ci siamo sempre ispirati in cinque anni voglio dirle che il comune di Pescara è l'unico comune che mi risulti in Abruzzo che ha fatto concorsi pubblici invitando magistrati della Corte dei Conti a partecipare alle commissioni invitandoli avendo poi in commissione magistrati della Corte dei Conti questo era lo stile della mia amministrazione e credo che per questo ci abbiano apprezzato sempre tutti parliamo ancora di questa vicenda la testimonianza dell'ex consigliere comunale di Pescara Dogali che dice fu il primo a lanciare l'allarme di Sesto e poi ieri il consiglio comunale ancora bagarro fesi dal sindaco abbandoniamo l'aula il centrodestra contesta Alessandrini non ha rivelato al consiglio che è indagato per il mare sporco vedete nella foto i consiglieri del centrodestra che lasciano l'assise e poi vuoi donare gli organi dillo sulla carta di identità ieri c'è stata questa conferenza stampa importante proprio per parlare di donazione degli organi da oggi infatti chi rinnova il documento cartaceo ovvero la carta di identità può far scrivere di essere favorevole all'atto di generosità basta compilare un modulo per l'iscrizione in un registro vediamo il servizio anche Pescara adotta una scelta in comune progetto che consentirà ai residenti così come accade già in oltre 16 comuni abruzzesi di decidere sulla donazione degli organi in sede di rinnovo o rilascio del documento di identità una volta arrivati all'ufficio nagrafe i dipendenti faranno presente questa possibilità ai cittadini che qualora decidessero di consentire la donazione degli organi dovranno semplicemente compilare un piccolo modulo che verrà direttamente inserito nella banca dati dei trapianti a livello nazionale ci sarà anche la possibilità volendo di renderlo visibile di rendere visibile questa scelta sulle carte di identità ad oggi si tratta però solo delle carte di identità cartacee questo però per volontà del ministero che non ha ancora aggiornato il software delle carte di identità elettroniche si può aggiornare e si può anche cambiare idea in caso qualcuno dovesse cambiare idea solo che bisogna farlo all'ASL è un atto di civiltà è un atto di altruismo e secondo me è a fondamento anche della nostra civiltà di esseri umani fare un dono in un momento in cui noi non abbiamo più necessità perché siamo morti però i nostri organi sono ancora vitali possiamo salvare la vita a tante persone in attesa di trapianto o migliorare la qualità di vita di tante persone che sono in dialisi ormai da anni oppure hanno problemi per esempio di vista pensiamo a tante malattie che comportano la cecità e il trapianto di cornea chiaramente migliora in maniera netta la qualità di vita di queste persone e anche delle famiglie che gli stanno intorno l'età della donazione non ci sono limiti per il cuore sì per il cuore ci sono limiti perché il donatore 55 a volte arriviamo anche ai 60 anni ma dipende dalla qualità purtroppo dell'organo altre notizie che riguardano Pescara sabato ci sarà la cerimonia in comune per la consegna dei chattè d'oro e dei delfini di Tizio Angelone e Nanetti tra i premiati e poi il 14 ottobre parliamo di solidarietà al Circus con la Dricesta c'è Alessandro Preziosi poi un'importante iniziativa che si è tenuta a Pescara domenica scorsa nonno ascoltami in centinaia ai controlli successo della campagna di screening gratuito in piazza Salotto tra dibattiti ed eventi sportivi andiamo avanti la confessione del prete si torna a parlare delle dichiarazioni proprio di Monsignor Shamarsa che avevano fatto sicuramente effetto proprio a poche ore dall'inizio del sinodo parla il vicario Vescovile di Pescara Don Vincenzo Amadio che dice la Chiesa non giudica negativamente i gay andiamo ancora avanti siamo alla pagina dell'Interland di Pescara turismo spiragli di luce hotel pieni a Francavilla numeri in condro tendenza e positivi per l'estate nella città adriatica poi Cepagatti Marco Ligabue venerdì all'Osteria della Musica e poi a Salle dunque in provincia di Pescara ucciso un cinghiale di tre quintali abbattuto da una squadra di cacciatori di Cepagatti vicino all'abitato di Salle e poi San Giovanni Teatino insulti al sindaco ex assessore in tribunale siamo alla pagina di Montesilvano caos mensa la protesta delle mamme in bambini mangiano a casa avvio tra le polemiche codici identificativi mancanti o errori nell'accredito dei buoni pasto in comune scoppia la protesta e poi cartelle pazze etari ancora file a Portallegro in 1500 la festa degli animali ancora Montesilvano valigie pronte per brocchie e parlione maggioranza traballante a Montesilvano Maragno prepara il rimpasto già pronto De Vincentis spunta anche Aliano dunque ci potrebbero essere nuovi assessori nell'ambito di questo rimpasto Pianella occupazioni solo pubblico partito il censimento aspoltore lezioni di cinese inglese e giapponese e poi a Montesilvano ecco i baby muratori all'opera piedi scalzi e mani sporche hanno imparato a fare mattoni al cantiere nell'orto e siamo alla pagina di Penne Popoli Alta Val Pescara Popoli rischio allagamenti via ai lavori sul giardino e poi a Penne stipendi in ritardo in pericolo il servizio rifiuti lezioni a tocco da Casario dell'università della terza età e poi Marconi via ai lavori nella sede storica di Penne l'edificio scolastico è chiuso da tempo l'intervento sarà completato nei primi mesi del 2016 poi salvato un cane dai vigili del fuoco Segugio italiano recuperato a Manoppello siamo alla pagina di Chieti e della provincia di Chieti sul centro in questo caso siamo a Basto accoltellata dal compagno durante la lite donna in ospedale contro di lei prima pugni e schiaffi poi il ferimento ad una gamba lui denunciato per lesioni aggravate e poi Chieti l'ASL gli nega il lavoro lui va in direzione spacca tutto è accaduto proprio ieri negli uffici dell'ASL Teatina e poi sempre a Chieti blitz della polizia omicidio arrestato latitante aveva un mandato di cattura e ad Atessa Bimo investimenti per 15 milioni l'azienda si rilancia con forniture per i colossi dell'alimentare e siamo alla pagina dell'Aquila l'Aquila provincia in questo caso a Sulmona per parlare di questa ennesima tragedia di questa morte in un incidente stradale ieri sera una donna ha perso la vita nello schianto in auto 54 anni insegnante si è scontrata con la sua auto con una vettura in cui all'interno c'erano tre romeni e poi una notizia che arriva dall'Aquila gli occhi di Laura vedranno ancora donate le corne un gesto di grande generosità nel momento del dolore più grande della loro vita i familiari di Laura Cestroni morta a 24 anni per una grave malattia hanno dato il via libera all'espianto delle corne della ragazza e poi ad Avezzano sosta selvaggia bloccata l'ambulanza Avezzano a bordo malata in coma autisti sradicano i dissuasori il comune multeremo anche i medici siamo alla pagina di Teramo del centro emergenza a Teramo la regione taglia due mezzi di soccorso secondo il piano da gennaio rimarranno solo due ambulanze ora ce ne sono tre un'automedica postazioni medicalizzate Roseto Alba Adriatica e Valvomano capoluogo penalizzato Croce Bianca a rischio e poi politica il PD all'attacco sulle pari opportunità triste silenzio di Brucchi e poi compagnia del nono Alpini allestisce un campo a Castelli marce sul Gran Sasso per una settimana con gli Alpini allora lasciamo il centro torniamo al messaggero per vedere le notizie sempre dalle sedi provinciali l'Aquila la del Principe interrogata per due ore la dirigente comunale ha chiesto e ottenuto dal GIP di uscire da una porta secondaria per abbandonare il palazzaccio la difesa abbiamo risposto a tutte le domande riteniamo di aver chiarito le circostanze di fatto siamo molto se ne sereni poi municipio e precari sono tornati ad occupare Palazzo Fibbioni e alla Corte dei Conti per colpa di Pirozzolo mi fece firmare una delibera apposta si parla ancora della vicenda di cui c'è il titolo principale proprio in alto si parla di intercettazioni e queste intercettazioni proprio riferiscono anche di questa indagine della Corte dei Conti e poi tasse si lavora all'intesa con l'Europa e poi l'indagine social dumping gli operai romeni nessuna minaccia proseguiamo seconda pagina porta barete si spacca il fronte del civico 207 uno degli abitanti prende le distanze firmo il protocollo di intesa e poi al globo nuovo cavalcavia pronto a novembre l'attuale struttura sarà abbattuta contestualmente e poi vi adotto per roio scatta l'inchiesta infine lo stadio dell'acqua santa nubi nere sul derby di novembre e siamo alla pagina di Avezzano sul Mona schianto sulla strada statale 17 muore una donna abbiamo visto anche dal centro questa insegnante morta proprio nell'incidente accaduto ieri la vittima Maria Luisa Esposito di 54 anni era molto nota anche perché era la presidente dell'associazione Lo Specchio e sempre a Sul Mona fuori dalle macro aree via alla petizione e ad Avezzano il comune chiude la discarica di Santa Lucia raccolte 600 firme per Don Elvis a Dovindoli mentre tornando a Sul Mona via libera al centrale della SNAM siamo alle pagine di Pescara del messaggero algerino accoltellato in manette l'amico palestinese una rissa tra parcheggiatori abusivi ha scatenato l'aggressione dopo l'incendio di sabato notte in una casa occupata di via Doria e dopo gli sgomberi arrivano le luci piano per la bonifica della stazione e poi muore in carcere a 42 anni la procura indaga politica il centrodestra abbandona l'aula nuova protesta in consiglio contro il sindaco Alessandrini accusato di aver nascosto all'assemblea l'avviso di garanzia mascia solidale ma ricordo io fui trattato molto peggio presutti capogruppo del PD una fuga dalle responsabilità di governo e poi la cerimonia del Cattedoro anche a Cordova presidente della LAD e poi donare gli organi la scelta nella carta d'identità abbiamo visto poco fa il servizio operazione verità sui conti il PD svela il dossier del MEF anche in questo caso abbiamo ascoltato nel servizio di Elisa Leuzzo l'ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e poi villaggio sportivo dell'amatori basket Toro pronti a partire con i lavori lettera D'Alfonso Costanzi lascia l'Ater ancora avanti Pescara area metropolitana Fiutopoli Venturoni Rodolfo Di Zio rischiano 5 anni le richieste dei PM ieri in tribunale a Pescara poi il caso Michelangelo il palazzo rispetta la concessione pittura teatro e musica tutte le arti nel nuovo laboratorio di Anna Seccia e poi siamo a Chieti lo scalo tagliato in due dei cantieri chiuso da ieri per sempre il passaggio a livello di via Pomiglio un bus navetta assicura l'attraversamento della tirbutina ruspe in azione per la costruzione della fermata ferroviaria e del nodo viario di Madonna delle Piane con rondo e parcheggi e poi sorpresa in bolletta sconti sull'acqua ma spese extra per quasi 2 milioni e mezzo Febo all'attacco Febo esponente del PD di Chieti e poi sospetto killer Moldavo preso a Chieti era ricercato per un omicidio nel Lazio e poi disperato devasta gli uffici della ASL sempre a Chieti e è qualità vincente il premio Masciarelli a Oscar Farinetti Ancora avanti Lanciano Vasto Ortona emergenze e acuti Paolucci anticipa il futuro del Renzetti l'assessore regionale alla sanità ha illustrato il piano di riorganizzazione negli ospedali dell'area Frentana e poi la cronaca dalla provincia di Chieti Vasto furio salite in casa e poi la coltella denunciato un 46enne a Lanciano minaccia di morte la ex in manette ad Ortona furti sulle auto a Lido tre arresti e a Lanciano sulla ragazzina abusata ci sarebbe un altro uomo proseguono dunque le indagini poi ex Bimo fiducia nel piano di rilancio siamo alla pagina di termo del messaggero teatro la gestione costerà 25 mila euro questa la cifra stabilita dalla giunta comunale per la struttura l'appalto attualmente affidato a Spinozzi scadrà il 30 novembre poi le spine siringhe insanguinate in via Riccitelli i vigili vietano l'accesso ai giardini la giunta da via libera al progetto del polo scolastico alla D'Alessandro e poi ospedale spunta la grana del secondo livello il PD accusa nel passato pochi investimenti per il Mazzini ieri caos parcheggi e poi la brutta storia maltrattamenti in famiglia un arresto proseguiamo Giulianova Roseto Valvibrata dubbi sull'ospedale interverrà Paolucci l'assessore regionale incontrerà breve il sindaco di Giulianova Maragno e parteciperà ad una commissione sul destino del neosocomio Maria Santissima dello splendore di Giulianova Albadriatica palme da salvare dal punteruolo inutili tentativi del comune e poi si parla del cantiere pericoloso Piazza Salino promessa non mantenuta scatta la protesta di Tortoreto nel cuore e poi a Roseto turismo estivo aumentano le presenze il sindaco prepara un piano di azione il 15% in più ma il trend era positivo già lo scorso anno ha detto il sindaco di Roseto Pavone poi a Giulianova caserma dei Carabinieri oggi l'incontro del comitato prima di passare allo sport andiamo a vedere insieme le pagine del quotidiano la città di Teramo la prima pagina chiesti 5 anni per Venturoni si parla dell'inchiesta Rifiutopoli poi Pigro a Teramo il concerto dedicato a Ivan Graziani ma andiamo a vedere insieme le pagine interne del quotidiano la città cronaca regionale rientrati tutti i treni bianchi di Lourdes volontari e disabili dell'Unital si erano bloccati nelle stazioni della Costa Azzurra per l'alluvione poi Parco Gran Sasso e Monti della Laga Domenico Nicoletti è il nuovo direttore del Parco Nazionale proseguiamo con la città di Teramo inchiesta Rifiutopoli chiesti 5 anni per Lanfranco Venturoni ieri a Pescara la requisitoria al processo remida sugli intrecci tra Teramo Ambiente di Zio e Centrodestra regionale ancora avanti parliamo di politica chiodi il gioco di D'Alfonso sulle cliniche private va fermato l'ex governatore chiede l'UMI al Ministero su convenzioni e budget della sanità privata proseguiamo pagina 8 siamo alle pagine della cronaca di Teramo via libera in giunta al polo scolastico il comune aggiorna il progetto dell'acqua viva per cercare di ottenere un finanziamento ministeriale viabilità in basso vedete l'8-0 bloccato per un incidente comunale sempre più teatro e meno cinema la giunta approva l'aumento del canone annuo di gestione da 20 a 25 mila euro in vista del prossimo bando e poi cronaca continua e botte alla moglie pensionato finisce in manette alla gammarana siringhe nei giardinetti di via Riccitelli avanza il degrado nell'anello verde di piazza Garibaldi la polizia municipale transenna le aiuole e poi latrine rimaste davanti casa per 48 ore dopo la festa tanfo insopportabile a torre bruciata per il mancato smontaggio e poi quartieri oggi mazzocca a Colleparco per la frana di via Montautil sottosegretario della regione con delega all'ambiente sarà oggi a Teramo e la giunta a Brucchi allergica alle pari opportunità Lucia Verticelli del PD chiede di istituire subito la commissione comunale prevista nello statuto e poi il concorso Play Energy Enel porta gli studenti dell'istituto tecnico all'Expo di Milano proseguiamo ancora avanti pagina della provincia denutriti e maltrattati nell'allevamento lager carabinieri e guardie zoofile salvano tre rottweiler in fin di vita il padrone di Campli denunciato e poi cacciatori spaccati sulla convocazione dell'assemblea e il taglio del nastro inaugurata la scuola sicura ieri a Bisenti Val Vibrata Tortoreto fermi anche i lavori pubblici non è il solo piano regolatore ad essere bloccato al palo anche il cantiere della piazza Salino e poi la cronaca prova a rubare profumi e bigiotteria per la sua ragazza 17 anni nei guai a Colonnella Tortoreto era ai domiciliari ma è evaso per una passeggiata e a Sant'Egidio ci si anima grazie alla mostra scambio e sempre nel centro Vibratiano Don Luigino entra in servizio alla fine del mese prenderà il posto di Tommaso Capriotti trasferito a San Benedetto del Tronto e siamo alla pagina di Giuliano Vamociano guai agli scuola bus ci risiamo Laura Ciafardoni bambini costretti ad attendere in piazza della Libertà Roseto Pineto Atrisilvi la maggioranza silenziosa è con noi fratelli d'Italia fa il bilancio della protesta anti-migranti di sabato scorso a Roseto e sempre a Roseto nove ragazzi al lavoro nel comune turisti in crescita del 15% sulle spiagge di Roseto la soddisfazione del sindaco di Roseto Ennio Pavone vi abbiamo proposto ieri anche un servizio nel corso del TG6 e poi Parco del Cerrano Benigno Dorazio non ci sta e ricorre al Tar dopo le nomine e anche Pineto presenta la sua marionetta gigante l'amministrazione ha partecipato alla manifestazione De Crochet La Lune in Belgio siamo all'economia banca e cliente da gennaio cambia tutto l'economista Carnevale Maffè a Teramo per spiegare le novità e siamo alla pagina della cultura per Ivan Graziani una città in standing ovation buon compleanno Ivan oggi il grande cantautore avrebbe compiuto 70 anni a Teramo la festa è tutta per lui con Pigro andiamo ancora avanti lo sport il diavolo ricade nei soliti peccati seconda sconfitta consecutiva per il Teramo Vivarini chiede umiltà e maggiore attenzione San Nicolò d'applausi il campo basso al tappeto e a proposito di sport andiamo a vedere prima di chiudere le pagine sportive del centro del messaggero siamo al centro Pescara Vukusic addio fari sul baby di Massimo il Deffino vuole il fenomeno dell'Avezzano operazione da 100.000 euro di Massimo tra l'altro in gollo nell'ultima partita dei Marsicani partita vinta per 2-1 con la Fermana Brunoza K.O. Lascoli da tutta la curva nord dai pescaresi grande attesa per il derby di domenica e poi assemblea dei soci il bilancio si approva il 28 e poi si parla di abbonamenti Pescara all'undicesimo posto Lanciano terzo ultimo nella speciale classifica degli abbonati dei tifosi delle squadre di Serie B siamo proprio a Lanciano la Virtus è un bunker ma l'attacco stenta a decollare il Lanciano subisce poco rispetto allo scorso campionato però manca il gol D'Aversa Pochereti non sono preoccupato dice il tecnico Rossonero e poi il Teramo Lega Pro cercasi attacco il gol ora è un problema due sconfitte consecutive e tifosi che sono piuttosto delusi dopo questo avvio di campionato che aveva fatto ben sperare con la vittoria sul Savona poi l'Aquila Maccarone ci vuole una sterzata dice il difensore poi Serie D Ronci e Unchieti giovane non accusate la squadra il tecnico Neroverde mi assumo tutte le responsabilità degli errori e poi eccellenza vastese un messaggio alle concorrenti notaresco via l'allenatore e poi basket è partito il campionato di Serie A2 di Cosmo la progera un grande pubblico Arnold e Super Trullo calma Roseto la squadra è giovane deve crescere nella prima giornata il Chieti ha battuto Iesi Roseto è stata sconfitta in casa da Treviso chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero Pescara Lascoli nel mirino il team manager Gessa ricorda la sconfitta del mazzo 2012 al Del Duca ero in campo l'arbitro ci fischiava contro non ci vidi più e fui poi espulso quella partita per la cronaca finì per 3 a 0 in favore dell'Ascoli Pescara era allenato da Zeman e poi l'Aquila bella ma sfortunata ora il Savona per il riscatto poi ancora tornando al Pescara risoluzione consensuale con Vukusic Bunoza fuori un mese Lanciano il problema il reparto offensivo Teramo è l'ora di crescere il team di Vivarini dopo le due sconfitte deve superare ancora il gap psicologico Giulianova siamo alla serie D servono subito rinforzi e ancora a serie D Ronci alza la voce per il suo Chieti San Nicolò corre Chieti bloccato per 2 a 2 in casa dal Castelfidardo San Nicolò che ha battuto il campo basso e siamo alla pagina degli sport vari Sharks adesso serve una grande prova Verona Proger partenza ok Galli un elogio a tutti e poi Lanciano San Martino 80 anni per il mito del ring Pizzoferrato celebra il suo figlio più famoso l'uomo dei record e ciclismo torna il Giro d'Italia arrivo a Roccaraso poi Sulmona e siamo dunque giunti al termine del nostro consueto appuntamento quotidiano con Mattino 6 prima di salutarci vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della giornata come sempre alle 14 con la prima edizione del nostro TG6 grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti